Ciao a tutti ragazzi, nuovo evento della settimana di GTA Online, il giorno del mio compleanno, anche se diciamo che Rockstar non mi ha fatto un grande regalo, perché questo evento della settimana è un po' una cagata e non ci sono cose nuove. La novità più grande della settimana di GTA Online è che la prossima settimana usciranno finalmente le Drag Race, le famose gare drag completamente dritte, dove conterà solo ed unicamente l'accelerazione mischiata alla velocità massima. Questa settimana abbiamo doppio guadagno di dollari passivo con la cassaforte del carattrezzi, ciò significa che nella cassaforte dello sfasciacarrozze potete guadagnare fino a un massimo di 480.000 dollari con il personale dopo 16 ore di gioco. Chiaramente dovete ricordarvi di ritirare più spesso in queste 16 ore i soldi dalla cassaforte dello sfasciacarrozze, perché in realtà dentro la cassaforte dello sfasciacarrozze ci sta un massimo di 125.000 dollari. Poi vabbè, se avete quella sul muro sono 250.000 dollari, ma chiaramente non vale comprare la cassaforte del muro a 750.000 dollari, anche perché tanto avere una cassaforte sul muro non vi aumenta la velocità con cui si generano questi soldi. L'importante quindi è solamente avere una buona memoria e andare a ritirare più spesso i soldi della cassaforte dello sfasciacarrozze, perché anche senza la cassaforte sul muro, per chi non lo sapesse, avete comunque una cassaforte standard che può contenere un massimo di 125.000 dollari accumulati con questo guadagno passivo. Chiaramente la nota negativa è che dovete ricordarvi più volte di svuotare la cassaforte, è lì l'unica rottura di scatole. Per generare la massima velocità di questo guadagno passivo dovete fare 4 missioni con il vostro carro attrezzi. Il consiglio che vi do se volete guadagnare questa settimana con questo guadagno passivo è di fare 4 missioni del carro attrezzi al giorno, non sto parlando dei furti sia chiaro, ma proprio delle missioni con il carro attrezzi, e successivamente di svuotare la cassaforte ogni 3 ore di gioco della vita reale. L'importante è ricordarsi di andare alla cassaforte ogni 3 ore, dato che la cassaforte normale può avere un limite massimo di 125.000 dollari. E farete diciamo un piccolo extra questa settimana, anche se comunque non c'è nient'altro, abbiamo solamente altro bonus guadagno di dollari ed rp, doppio, sarebbe sulla modalità competizione spuntanati che non è un gran che, e poi purtroppo non abbiamo nient'altro. Al casino potete vincere la Power Surge, all'autoraduno il premio la Piot Gesser, dovete arrivare a meno quarti per tre giorni di fila nella serie di gare dell'autoraduno. All'autoraduno potete testare la Stafford, la Stinger, la Tyrus e la Brios R.A. Diao, da Simeon, potete testare la Washington, la Shafter, la Premier, la Sanchez e la Zion. Infine alla Luxury potete osservare la Vigero ZX, Decappottabile e l'Asterop GZ. Mi sembra che la Tyrus non sia più presente nel sito di GTA Online, quindi se la volete approfittatene, basta andare all'autoraduno e comprarla direttamente da lì. Questa settimana lo sfasciacarrozze ritorna finalmente il colpo della prigione della polizia di King e Tini, quindi sì, questa settimana potete fare il glitch per ottenere il completo da poliziotto. Sarebbe praticamente il colpo dell'auto della Visser Neo, quella tutta a sinistra. Poi al centro abbiamo il colpo dei Duggan dentro l'arena della Karine Everon. Infine tutto a destra abbiamo il colpo del podio del casino della Winnie Issy Rally. Prova a tempo della settimana in questi punti la mappa. Oggi il furgone delle armi si trova qui e presenterà queste armi. Infine gli sconti della settimana sono 30% di sconto sulla Stafford, sulla Stinger ed infine sulla Tyrus. Quindi niente ragazzi, da ZWX è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video!